Una mazzetta da 25 mila euro per convincere la maggioranza del Consiglio Comunale di Pachino nel Siracusano a rilasciare un permesso a costruire. Sarebbe stata questa la richiesta avanzata a un imprenditore del ragusano titolare di una società immobiliare che ha denunciato l'accaduto alla polizia. Così gli agenti della squadra mobile di Ragusa sono intervenuti dopo la consegna dei soldi e hanno arrestato in flagranza di reato per concussione in concorso il vice sindaco di Pachino e consigliere comunale Aldo Russo e un suo collaboratore Giuseppe Di Martino ex funzionario comunale in pensione. Secondo le indagini coordinate dalla procura di Ragusa la vittima nel 2020 aveva chiesto all'ufficio tecnico del comune di Pachino un permesso a costruire per la realizzazione di un immobile di media struttura di vendita. La concessione dopo due anni aveva ottenuto la parere favorevole dell'ufficio. Il passaggio successivo era la sua approvazione in una seduta del consiglio comunale fissata per aprile. L'imprenditore avrebbe ricevuto una richiesta d'incontro da parte del vice sindaco di Pachino, contesta la procura di Ragusa, finalizzata a ottenere una somma di denaro per definire in maniera favorevole la sua pratica in quanto, a suo dire, alcuni consiglieri non erano d'accordo a deliberare favorevolmente. Ma la vittima, come detto, ha denunciato ed è scattata l'operazione della polizia.